Bene, allora vediamo come operare con i pivot facendo trading con il metodo cash di azione e reazione. Se non hai visto il video precedente devi assolutamente vederlo perché ho spiegato come configurare i livelli di azione e reazione per operare appunto con il metodo cash di azione e reazione. La configurazione non è comune all'altro metodo, il metodo DTR, sono due configurazioni diverse. Una è finalizzata per il trading di breve e medio termine, l'altra configurazione invece è il metodo DTR per un trading di medio e lungo termine. Quindi due obiettivi diversi. Gli obiettivi che ci impegniamo a perseguire, a raggiungere con questo metodo sono di 50, 100 e 150 PIP, non oltre. Va bene? E utilizziamo le congestioni del metodo cash naturalmente, i pivot, gli schemi veloci e gli schemi ampi. Adesso ci concentriamo sui pivot. Il pivot indica una barra, no? Quindi questo è un pivot, giusto per chiarirci. Questo è un pivot. Questo pivot in sé per sé non indica praticamente nulla, indica una fase di esaurimento, ma se viene contestualizzato nel modo corretto indica la presenza di un'opportunità di trading, quindi di un evento chiaro che si dipende, che porta con sé, che produce, è in grado di produrre una certa prospettiva. Cioè non è lo schema in sé per sé, il pivot in sé per sé, ma è il pivot all'interno di un certo contesto. Questo contesto qual è? Noi dobbiamo valutare questi eventi in relazione ai livelli di azione e reazione, che ci forniscono appunto quella prospettiva di cui noi abbiamo bisogno. Nel video di ieri io ho mostrato come questi livelli si mettono e nel video di oggi vi mostro la configurazione che poi ho sviluppato per la mia attività. Come ho detto, questa configurazione richiede anche qualche giorno per essere trovata e quindi la configurazione di ieri era un po' come esempio. Questa qui è la configurazione finale che io poi ho trovato per operare in questo periodo. Va bene? Allora, abbiamo dei livelli H1 con un'ampiezza di circa 10 pip, ok? E dei livelli giornalieri che indicano la presenza di una prospettiva con un'ampiezza di circa 50 pip, ok? Ok. Dopo andiamo a dare un'occhiata anche a Sterlina Dolloro. Questi eventi, basati sui pivot, come si formano? Noi dobbiamo prima osservarli in modo che capiamo con che cosa abbiamo a che fare e poi dobbiamo imparare a osservare quegli eventi durante il loro sviluppo, ok? Sono due cose diverse. L'attività si svolge in due modi, no? In due fasi diverse. Prima vediamo che cosa dobbiamo cercare e poi impariamo a cercare quella cosa, ok? Perché quando poi sarete chiamati a osservare il mercato durante il suo sviluppo vi renderete conto che ci sono delle differenze. Cioè io quando vedo uno schema già formato è una cosa, mi sembra validissimo. Poi durante il suo sviluppo posso essere tratto in inganno. Quindi devo fare poi esercizio pratico per trovare quegli eventi, questi eventi durante il loro sviluppo. ma è un'attività poi, insomma, che riguarda il lavoro pratico di tutti i giorni. Ma una volta che so che cosa devo cercare, faccio un po' di esercizio, giorno per giorno cerco, studio quei 30, 40, 50 eventi e a quel punto ho un bagaglio di esperienza per operare in modo competitivo sui pivot, in questo caso sui pivot, va bene? Ok. Allora andiamo a osservare un po' il contesto per capire il valore di questo pivot. Un pivot che è emerso in questi giorni, che ha fatto molto bene il suo lavoro, abbiamo avuto, vedete, una congestione che non era, diciamo, granché per operare con il metro cash, il mercato ha sviluppato presi di profitto. Poi ha sviluppato questo pivot sul canale di reazione e reazione, che indicava una direzionalità. Lo capiamo, capiamo che c'è una direzionalità, perché? Perché il mercato chiude sopra l'apertura. È una barra verde proprio perché è realdista, molto semplicemente. Se è la rossa, non c'è la direzionalità realdista, naturalmente. Va bene? Per operare con il metro cash si mette un setup di 25 pip su questo evento e si sfrutta la reazione sistemica, quindi la prima fase del mercato, la prima spinta del mercato per guadagnare lo stop a pareggio. Qui abbiamo una reazione che per una prima parte è sistemica, per una seconda parte invece è emotiva, perché c'erano le notizie dopo una certa ora, alle 16. Ok? Quindi cosa si faceva? Si doveva prendere posizione, sfruttando questi 10 pip avanti, si guadagnava lo stop a pareggio e si sfruttava la spinta, che ha portato poi il mercato a circa 45 pip. Ok? Quindi era un evento pienamente compatibile. Studiamo gli eventi in questo modo, no? 30 eventi, 40 eventi, più ne studiamo meglio è naturalmente sul nostro mercato di riferimento e a quel punto abbiamo un'idea chiara di come queste opportunità si formano e di come reagiscono. La reazione è tutto. I dati che indica, i dati che il mercato indica, che mostra per quello che riguarda la reazione è tutto, sono proprio il centro del business, perché noi dobbiamo studiare come il nostro evento si forma alla base e come reagisce. e dobbiamo poi studiare sia le reazioni infruttuose, che sono importantissime, sia quelle che generano profitto. Studiare le reazioni infruttuose è quasi più importante rispetto allo studio delle reazioni che producono profitto, perché ci consentono di preparare quegli strumenti di gestione che ci servono per assicurare piccole spese ogni giorno. Questo è essenziale per esercitare un controllo sull'attività. Se noi non controlliamo il rischio, non controlliamo l'attività. Questo è essenziale. Quindi questo evento è un evento semplice, pulito, che fa il suo lavoro, che reagisce bene. Quest'altro evento è un po' più sporco, perché sviluppa un pivot nel corso della notte e quindi diventa un po' difficile. Sono degli eventi che mi sto impegnando a studiare, che fino adesso non ho inserito nella mia gestione, ma me li studio, quindi con lo stesso criterio andrò a prendere tutti gli eventi possibili di questo tipo, che sviluppano un pivot nel corso della notte, in modo da trovare un modo per anticipare la reazione, che in questo caso sarà pienamente compatibile. Vedete, l'attività va svolta a piccoli passi, o almeno io l'ho sempre svolta in questi termini. Prima studio tanto tutto quello che serve, perché non voglio essere impreparato, voglio arrivare al mercato preparato, voglio sapere che cosa ho davanti e come quello che ho davanti si comporta, come reagisce il mercato. Non voglio essere colto di sorpresa, non voglio gestire opportunità rischiose. Più ne sappiamo, più riusciamo a esercitare un controllo sull'attività e più saremo in grado di produrre risultati con un rischio limitato. Capite che produrre dei risultati con un rischio limitato è essenziale, perché significa produrre avendo un controllo dell'attività. Altrimenti andiamo a caccia di un colpo di fortuna e con i colpi di fortuna non si costruisce un business, non è un business, è più un'attività di intrattenimento. Va bene? Qui andiamo a vedere quindi come il mercato si è sviluppato nel corso degli ultimi due eventi. Adesso diamo uno sguardo anche a Sternino Dollaro e vediamo che cosa ha sviluppato adesso. Se noi andiamo a vedere un po' qui il giornaliero, vediamo che cosa? Vediamo che attualmente il mercato ha collassato su questo canale di azione e reazione. Qual è l'altro elemento interessante che a noi serve per determinare una prospettiva? Noi sappiamo che quando il mercato conferma la liquidità oltre un canale di questo tipo, tende a raggiungere il massimo del canale successivo. Quindi qui adesso siamo in fase correttiva e stiamo ragionando per trovare un segnale di preavviso, così si chiama, per entrare al mercato prima di questa soglia. In modo da guadagnare lo stop a pregio, se il mercato conferma la liquidità, tenderà poi a guadagnare quel vantaggio strategico di 50 pip fino al massimo del canale successivo. Quindi si ragiona in questi termini. Andiamo a cercare i pivot, gli schemi veloci. Per esempio questo è uno schema veloce. Adesso però, che il registro e il video sono quasi le 20, e quindi non possiamo entrare al mercato alle 20, perché non c'è alcuna spinta latio-europeo nel lato americano, perché ormai la giornata, dato quello che doveva dare, sarà difficile avere una riazione sufficientemente ampia. Queste cose si fanno dalla mattina. Quindi vedremo domani mattina se il mercato andrà a sviluppare per esempio una congestione qui sotto, lì andremo a cercare il pivot, uno schema veloce, oppure andremo a lavorare direttamente sulla congestione, come facciamo di solito con il metodo cash. I livelli su H1 ci danno il punto di riferimento per operare. I livelli giornalisti indicano la prospettiva. Va bene? Ok, andiamo a vedere un po' anche Sterlina Rollalo. Sterlina Rollalo, questa è la configurazione che io ho trovato. Qui abbiamo canali pari a 100 pip, sono più ampi, perché questo mercato è un po' più denso, tende a sviluppare anche variazioni più veloci. Ecco, mettiamolo lì. E qui abbiamo poi canali invece sull'H1 pari a 20 pip, ok? Sull'euro roller era 10 pip e 50 pip, qui sono canali da 100 pip e 20 pip, va bene? Osserviamo i pivot che abbiamo avuto nel corso degli ultimi due giorni, tre giorni, ok? Questo è il pivot di oggi sul quale io ho lavorato, per esempio, ma non ho ottenuto alcun risultato. Perché? Perché anche qui avevamo una parte di reazione sistemica e una parte di reazione emotiva. Alle 4 c'erano le notizie, quindi non è stato possibile guadagnare lo stop appareggio, quindi ho dovuto chiudere. Il mercato poi ha reagito. Questo è un pivot compatibile. La reazione non è stata compatibile, ok? Perché non possiamo sfidare le notizie, non possiamo, come dire, superare una notizia con un rischio aperto. Perché tanto può andare bene come in questo caso, tanto il mercato ci può chiudere molto velocemente. E questo ci fa perdere il controllo dell'attività. E quindi se ci fa perdere il controllo, rinunciamo piuttosto all'opportunità, piuttosto che correre dietro a un'opportunità. Non dobbiamo mai rincorrere le opportunità, perché nel corso dell'anno emergono una marea di opportunità di ottima qualità e quindi non vale assolutamente la pena. Quando la base dati suggerisce una complicanza, possiamo tranquillamente rinunciare e ci limitiamo a osservare. Lo dico sempre, l'ho spiegato anche nel corso degli ultimi video, noi alimentiamo due bilanci, un bilancio in termini economici e un bilancio in termini di esperienza. Quando rinunciamo a gestire un'opportunità, comunque possiamo imparare qualcosa dai dati che emergono. E quindi ci impegniamo a quel punto ad alimentare esclusivamente il bilancio in termini di esperienza, che cresce sempre se prestiamo attenzione all'effettivo funzionamento dei nostri mercati. Altro pivot valido, che appunto configurava, come sull'euro-dollaro, parallelamente una parte di reazione sistemica e una parte di reazione emotiva. Anche qui era possibile guadagnare lo stop a pareggio e avremmo avuto avanti circa 20 pip e a fine giornata circa 80 pip. Quindi era un evento veramente favorevole. E vedete il pivot incrocia il livello di reazione e reazione, stesso livello che ha prodotto altri pivot nel passato recente. E qui che noi traiamo, possiamo sfruttare un vantaggio strategico. Il pivot attorno a un livello che ha già prodotto le reazioni, così capiamo che è un pivot valido. Anche qui diamo un'occhiata alle reazioni, ai punti di riferimento attorno ai livelli. Qui per esempio oggi il pivot non c'è stato, c'era su sterlina d'oldoro, qui non c'era, quindi qui non era possibile operare, anche se il livello era un livello valido. Qui vediamo il pivot, spero si veda, ecco, pivot e i pivot che abbiamo qua. Ok? E quindi capiamo che è un livello di reazione e reazione che ha un vantaggio strategico e quindi a quel punto sappiamo che è un'opportunità, non è un pivot che sta lì, che non serve a niente, è un pivot che costituisce opportunità di trading. Va bene? Rifletteteci, io durante i live delle 16.30 poi spiego un po' le opportunità che emergono giorno per giorno e diciamo è un appuntamento proprio per poter approfondire tutti questi temi per quello che riguarda l'operatività quotidiana. Va bene? Buon lavoro e a presto.